Ciao Maria Pia! Volevo salutarti, so che ormai tu sei la regina dei video, ma volevo mandartene uno mio, personale, a te, a tutti gli amici della tua libreria, vi ricordo con affetto. Vi mando tanti baci da lontano, anzi da Polignano, il mio nuovo romanzo, non vedo l'ora di rincontrarvi, al momento se potete leggetemi, e io vi penso e vi saluto da qua. Ciao!